e alla fine arriverà un bel principe con le tre chiavi magiche con esse libererà la fata dei jean e troverà l'amore che sono i jean? sono dei piccoli esserini che si prendono cura della natura attorno a noi a volte sono gentili, a volte sono maligni per questo è meglio che ci sia la fata dei jean a tenerli buoni anche da noi ci sono i jean? sì, ma qui vengono chiamati elfi forse alcuni di loro saranno così gentili da venirvi a cantare la ninna nanna stanotte dormite bene, bambini miei buona notte, notte buona notte, non è una buona notte Yassir Kabir che crescerà ed il grande mare barcherà libererà la fata dei cin insieme a lei sarà felice felice con lei